Quest'esperienza è iniziata proprio con un colloquio fatto con Colai perché ci spiegarono circa un anno e mezzo fa che potevano assisterci su tutta la fase del bando, per la preparazione del bando per questa importante gara e così è stato perché ci hanno assistito, hanno fatto tutto il progetto per quanto riguarda il piano industriale e quindi poi siamo riusciti a fare questa gara d'appalto e devo dire che i risultati sono eccezionali perché in solo sei mesi abbiamo raccolto, siamo arrivati a una percentuale del 38% Nonostante la gara ancora che è partita nel 6 gennaio non abbiamo completato in quartieri mancano due quartieri molto grossi e stiamo preparando, stiamo partendo dal 21 giugno e quindi speriamo di poter raggiungere il 60% del fine anno ma la cosa più bella è stata la grande collaborazione dei cittadini che si sono entusiasmati a fare questa differenziata porta a porta e questo ci ha permesso di farlo nel migliore dei modi e di ottenere questi grandi risultati, quindi il pubblico quando vuole realizzare questo importante gare, questo importante servizio ed è assistito da Lega Ambiente e da Conai i risultati sono eccezionali perché ho notato effettivamente che hanno una competenza che noi non avremmo potuto avere nell'utici comunale, all'interno dell'utici comunale questo ci ha servito tantissimo